forza forza se non finisci la benzina lo so ma le ruote si stanno per bucare come sono bravi a guidare la macchina come vorrei avere già la patente andrei dovunque in macchina senza prendere l'autobus o chiederlo ai genitori questa frase mi ricorda qualcuno che intendi mamma? intendo che anche cascia voleva disperatamente la patente per andare dovunque in macchina ma poi gli è passata la voglia e non ha guidato più per settimane cosa? ma è fantastico andare in macchina lascia che ti ricordi la tua storia ma perché? ah sì quel giorno io ero nata in gita tutto il giorno con la classe sì lei a gennaio ha compito 18 anni e finalmente ad aprile ha ricevuto la patente che questo è finito allora vediamo cosa devo fare e poi evviva evviva che c'è cascia ho preso finalmente la patente oh sono troppo troppo felice potrò andare in macchina da sola tu non hai una macchina non è che potrei prendere la vostra in prestito io non ne ho una cascia tu hai preso appena la patente non sai ancora tanto guidare ti prego mamma assolutami facciamo così io ti do il permesso di guidare la nostra macchina sì però tu dovrai passare in tutti questi posti per fare le faccende certo mamma è bello andare in giro in auto tutto il giorno come primo posto dovrai passare da tua zia mi ha prestato questa pentola e ora le devo ridare va bene tutto il resto è nella lista guido piano mi raccomando è la tua prima volta ciao tesoro buona fortuna ciao buona fortuna non devo andare a salvare la vita a qualcuno comunque vado così via eccomi è rimasta qui metto il freno a mano qui bene prendiamo questo oh grazie cascia di nulla e ora ehi aspetta ma che c'è